Arriva l'effetto Pasquetta sulla curva epidemiologica e di 15 nuovi casi un ricovero, un decesso e il bilancio del coronavirus per la giornata del 14 aprile in centro Abruzzo. Il quadro epidemiologico presenta una brusca impennata su fronte dell'Alto Sangro che fa registrare ben 13 dei 15 casi accertati, 8 a Castel di Sangro, 3 a Dalfedena, 2 a Scontrone. Altri due casi si contano in Valle Peligna, rispettivamente accertati uno a Pratola, un 39enne straniero che si era sottoposto al tampone prima di un intervento e un 77enne di Rocca Casale che dopo l'accertamento del contagio è stato ricoverato nella medicina Covid. Sono in corso invece le verifiche sulla positività del giovane domiciliato a Pratola poiché il risultato negativo ha un test rapido svolto privatamente per cui il tampone sarà ripetuto per fugare il dubbio. Nel bollettino di oggi compaiono anche tre minori che però non sono rientrati a scuola perché in sorveglianza almeno tre nuclei familiari in Alto Sangro. I focolai sembrerebbero circoscritti anche se bisogna attendere gli estri dei tamponi che saranno svolti sui contatti dei nuovi positivi. Il contagio allargato nell'Alto Sangro, stando alle prime verifiche, potrebbe essere dovuto alla rimpatriata di una trentina di persone il giorno di Pasquetta, alla quale avrebbe partecipato anche un soggetto con sintomatologia riconducibile al Covid. L'effetto delle rimpatriate non si è fatto attendere anche se l'importante è bloccare la diffusione del contagio. Una giornata quindi relativamente tranquilla per la Valle Peligna, rovinata dalla notizia del decesso dell'anziano che è morto per le conseguenze del contagio quattro giorni dopo la moglie. Intanto i vaccini continuano tra caos e polemiche. Oggi sono state inoculate solo 80 dosi nel centro vaccinale dell'incoronata, più altre 30 tra le casse di riposo Peligno Sangrine e 40 a domicilio grazie ai medici di base. Contrariamente a quanto si era preso, la fornitura di Pfizer era stata solo preannunciata e le 7200 dossi sono arrivate questa mattina, per cui decine di persone sono state contattate al sistema per annullare l'appuntamento fissato per oggi e riaggiornarlo a domenica prossima. Si spinge a piedi sull'acceleratore, si fanno piani vaccinali, ma senza le adeguate forniture difficilmente si decollerà, fermo restando il grande e apprezzato lavoro dei volontari e degli operatori sul fronte.